Anni eccoci per l'ennesimo video di Alien 89 Quindi siamo a due sconfitte e una vittoria Andiamo avanti Stadio casuale Divise Cominciamo a mettere questa Schema di gioco Torniamo con il nostro modulino Rimettiamoli qui Minchia Holland come sta E lo mettiamo Ok Difensivo Il buon Marchini Ancora il buon Holland Trequartista Messi Questo è Messi non quello 102 Minchia questo neanche i calci dunk si abbatte le Messi C'è neanche il pun... ho accorto a lui Un capitano Vandita Dai Che Dio ce la mandi in Buenas Mamma mia Ah Vabbè Prendita Sveidati Anisati Sveidati Anisati Sveidati Anisati io che mi butto in mezzo agli schiaffi e poi non risolvo un caso ah ok perfetto perfetto silenzio silenzio tacciamo 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 sto messo a cominciare a rompermi i coglioni rifacciamolo oh che c'è da vieni arnold il cross proprio facciamo due cose strane non ne parliamo per il calcio d'angoli io voglio venire una cosa incredibile a me che cazzo va questo non è la stoppata oh è quello là che cazzo che cazzo che cazzo che cazzo va bene va bene stiamoci zitti tirna bomb ma come si fa dalla pala cioè io regalo le palle i gol regalo io regalo il gol non è possibile va bene ehi arnold mi ha dato il coglione non batti più in cazzo di calcio d'angoli dove sta mani non voglio commentare questo è il mio disgratto poi mi chiedo come mai è buono battistuta lo state vedendo poi battistuta leggenda è forte lo stesso è anche più giovane quello dell'argentina è la è la 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 l'arrivale la 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 ma perchè fa sti passaggi sto gioco di merda ecco che cerchiamo di fare il corso di sene contro sennò poi ma dove cazzo la moette due triangle che gli voglio fare sembra e butta cazzo da par ecco grazie non commento non commento non voglio commentare ah no ma eeeh vabbè dai madonna mia ma donna mia madonna e va bene e va bene mezza gli schiaffi la prende lui e va bene fallo pareggiare fallo pareggiare oh peccato ah va bene stiamoci zitti stiamoci zitti stiamoci zitti stiamoci zitti si mi fanno il fall fallo si bravo bravo dagliela ma ma che cazzo stava a fare quello là ma stiamo scherzando stiamo ma che cazzo dal 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 si sposti rimone a vento pure tu tutti i trimone a vento oggi ma poi piace c'era vede quante partite c'è qui stiamo a due vittorie sbarra 2 scompliti sbargo e vittorio e non è fatto mamma mia mamma mia gada non ci voglio credo sta cazzo da pari ma di nuovo io glielo dà ma non è fallo va bene oh e non batti si è perdita e dopo lo vedete un po' Sì, sì, sì. ma come si fa così lento vediamo quattro battuto e maglietta ma lui è giusto battistote fatto la fine perché terminano indietro ma Ma che muoviti po' zio? Io non vi capisco proprio, buh, vabbè, manca tre minuti, non mi dica la quitta. Grazie. 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 siamo risalizzo per gli 800 ma questa è la mia 167 magari l'ho detto che questo tutti i secondi terza conti è impossibile che a luglio ha fatto 160 partite e invece si vedevo di grazie vedevo di due sconfitte due vittorie e l'abbiamo vinto quest'altra due sconfitte due vittorie al che vinci non si cambia deve dire prossimo bruciati che troviamo altre due partite basta questa faccia più lungo sto video questo camma venga palla al gemma dai 300 pale argento alla volta nome dopo la leggenda check di noto maledetta con amico maledetta maledetta cova ccx tu cazzo in google da vabbè vittorio vittorio sconfitte e sconfitte ma chi cazzo mi ha scritto prima allora che cazzo è questo che cazzo è questo che cazzo è questo che cazzo l'ha mai trovato l'eprò che cazzo l'ha mai trovato l'eprò dai abbiamo detto ony vittorio akamaming giusto che abbiamo qua dc frontale extra questo incontrista mi sa vabbè a 4 8 così 1 2 3 4 e mille mille e quattro si è 97 neanche 98 47 57 mamma mia che impresa altra ma purpa di da specia non l'ho visto per meglio 83 elit 2 il proprio spagnolo si hai in casa il cio buschetta come sta anche può farla uno scherzo acqua le blu con l'ho giuca questo battere più qual basta di solo ti cogliò non mi piace come batte o stadio sempre casuale divisa mettiamo questa che un bel po che non la facciamo gioca bel 69 ammessi un bel po che non la facciamo gioca un bel po che non la facciamo gioca un bel po che non la facciamo gioca più forte battisto più forte il tiro brava è una volta non imbalza a me o non faccio male no il kick off ma questo bruciato con le re due madonna la sandys guardatelo 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 la mutta da mamma guardatelo 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 bruciati e non è mai di un prego ma che non c'è nessuno in difesa a quello e ma fa beva come andata di più ma perché mi vuole fare il falso pezzo di merda not bad not bad not bad è dura è dura lo sapevo i cross ma il cross guarda pure soltanto sto coglione il cross ma la morte dei cross ma la morte e ora lo faccio io quanto è bruciato quanto sta bruciato ma va bene ma però mamma mia vado a vaffanculo mamma mia rotti coglioni già guardato 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 no la guarda guardatelo guardalo che coglione che coglione ma se mezzo mi fa state stop vai state stop che coglione no vado a lasciarle solo quello no 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 Maldini LUCAS HERNANDES LUCAS HERNANDES Non è falo Ma che cazzo ho fatto? Qua c'è l'Holland normale Messi, Ronaldo e Kimi La squadra non riesco a benchere Vabbè No, no No C'è sorta da fare Chine da merda Chine da merda Che pezzo di merda sto gioco E' una cosa incredibile Vabbè 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 Continua a fare il coglione Continua a fare il coglione Te la spezzo la gamba Coglione Continua a fare il coglione Mi è spulso a Bruschetti Mi è spulso a Bruschetti Ma guardate Ma che cazzo sto assistendo Mi è spulso a Bruschetti Mamma mia Che schifo di gioco Che schifo di gioco Stava a 30 metri da 30 metri Continua a fare ancora queste cazzate Questo Guardate Guardate Guardatelo 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 E no Io lo sappi Che cazzo Ared Kukro Spesso fallo Lo butti fuori Vero? Eh? No Non è neanche munito Raga Questo è PES Questo è PES Dai Questo è PES Questo è PES Vabbè Questo è PES Vabbè 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 grazie non è fuori bomba si quitta quitta trimone quitta quitta trimone quitta quitta trimone quitta tre partite per recuperare i punti persi a questa apertura speciale ahhh a quittato quindi ce ne manca uno per fare come non puoi scendere ahhh stuttramordo e mo dai dai mamma c'è un mal di test ma che cazzo sto a fare ah due tac giusto per fili in bellezza vai minchia per confermare lubrano mi manda lubrano merito due pozzuoli alla quinta di fila l'ultima ma post ottocentocinque settecento partita quasi più sconviti che vittoria boh stadio casuale maglietta il buon captain america minchia come va lento ragazzi la vedo già dura qui ragazzi la vedo già dura qui ragazzi non carica neanche le magliette ecco black ahhh bene qua stanno tutti scattati tutti scattati la faccio tu chezzi pur fa no vabbè dai no vabbè no vabbè una Grazie a tutti. Ragazzi, mi carica i maglietti, non so come fare a vedere. Andiamo all'avventura. Io non so che dire, guardate un po'. Boh. Vi è mai capitata una cosa del genere? Ma stanno giocando in gamba almeno? Ah, rosso. Ben uomo. Vabbè. Ho giunto tutti contro questo mondo da beccati. E che cazzo ha fatto? Mannaggia l'ho. Che cos'è? Ahia. Voi dite che io non devo dire su un uomo dei pali io. Vabbè. L'hoom dei pali. L'hoom, l'hoom. T'zoom. No, ma perché Dalla? Ah, dove è questo? Dura, trova le sbocchi. Sbarchi, ma c'è da Rambedus. Gole. Cristiano Ronaldo. Proverso si sta giocando la quinta di fila, ma no. Cristiano Ronaldo. No, no, no. Hava la New Central. L'hom. L'hom. Sbarchi, Hordi. Sbarchi, Sbarchi. Sbarchi. Sbarchi, Sbarchi. Sbarchi. Allaah. Managgia l'hoom di L Husqvar. Manuva il Lama. e che cazzo camaring più la pompata è meglio è e che cazzo camaringi non è fallo mi ha vibrato il joypad non è fallo quello ma va a cacare sto gioco di merda non è fallo anche questo va bene vai a fare in culo ma che cazzo è quello commentate voi io non ho più parole ma chi cazzo fischio fischio errore mio errore mio ma come si fa rega a certi gol come cazzo si scegliono per insieme pali 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 vabbè andiamo? no eh vabbè vabbò ah abbiamo finito in bellezza giustamente due tacche due tacche la mukta da mahamet bastarda laggatore e prendila laggatore di merda ma ho tutte le gastevi devo dare mo eh eh ma porca puttana maiale porca troia porca troia porca troia guardate maledetta la muerta da attende bastardo bastardo stlupito su gol big ma perché dovete laggare maledetta voi siete maledetti si siete maledetti va 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 lo sa già buttare in mezzo no non la girata e salta vabbè adesso forse è un altro messo che cazzo vedevo lì vabbè tira una bomba e pure batti stoutmo come o cazza tra no no e a 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 che cos'è questo 1 o 2 ma dai a 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 che cazzo a 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 5 minuti 5 minuti a a a a a ce la siamo portati a casa 4 vittorie di fila mi spiace per lui che era la quinta e va bene e va bene e e abbiamo vinto un'altra challenge come come promesso come ogni vittoria che vi ho detto e diamo questi 20.000 a camavinga mortacci tua e che non ti trovo dove sta un due tre quattro cinque e i mille che facciamo se vuoi arrivare a 98 o a me non mi buce meno il culo mo o se mo si a 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 vediamo 363 vabbè ragazzi ci vediamo al prossimo video sarebbe